Ciao a tutti fratelli, sono le nero-azzurre, eccoci qua e torniamo a fare video, torniamo a fare video dove si parla di calcio, finalmente, e dove non si può non parlare di mercato, ma a modo mio, cioè dicendo quello che penso in relazione ai nomi che si fanno, perché non sono nessuno, ma però mi piace parlarle insieme a voi. Vi ringrazio perché siete veramente bravissimi e non tenete conto della mia poca costanza per motivi di lavoro, ovviamente, su YouTube, quindi continuate a commentare e nonostante pochi video siete veramente una community che si fa sentire e questo mi fa veramente tanto, tanto, tanto piacere. Allora, veniamo alla serata di ieri, dove dalla Rai addirittura è venuta fuori la notizia di Mauro Riccardi, chiaramente ci sono già tantissime speculazioni, gente che fa la gara davvero più lungo e ad attribuire i meriti di una notizia che è una boutade vera e propria, oggettivamente una boutade, e ci sono canali che fanno comunque a gara a dire è una vittoria del canale, ci siamo arrivati prima degli altri. Io il primo che ho sentito parlare di Riccardi è stato Tramontana, ottobre, ma perché lo ritengo comunque un giornalista, prima di tutto che mi piace, ma è una fonte autorevole, ecco, uno che non parla alla cavolo come come tanti su YouTube, specialmente uno. Quindi di Riccardi si tratta, secondo me, di una vera e propria boutade, nel senso che che Riccardi voglia venire all'Inter e voglia tornare all'Inter, scusatemi, e tornare più che altro a Milano è una cosa che sanno anche i muri, per tantissimi motivi. Per il fatto che, secondo me, Marotta e Usilio lo riprenderebbero, secondo me non ci sono dubbi, però il dubbio, secondo me, fondamentale è Mainzaghi. Lo vorrebbe Mauro Riccardi? Secondo me no. Secondo me no, perché è un giocatore diverso rispetto all'immobile della Lazio, perché tanti fanno questo paragone con l'immobile della Lazio. È un giocatore che non aiuta la squadra nella maniera più assoluta. Io ve l'ho detto nel mio piccolo ieri sera in live dagli amici di Interterapia, che vi invito a seguire, perché sono tre amici, innanzitutto, ma sono molto competenti e hanno l'Inter nel cuore. Quindi andate a vedere, fanno delle live molto, ma molto interessanti, andate a vedere Interterapia. E io ieri nel mio piccolo l'ho detto, cioè secondo me per il gioco di Inzaghi non è vero che sarebbe la ciliegina sulla torta, anzi, non aiuta la squadra, non tiene sulla palla. Io sto parlando di quello che penso nel mio piccolo, sotto il punto di vista tecnico, di collocamento nella nostra squadra, non di questioni personali, attenzione, perché poi per quanto riguarda le questioni ambientali, io parlo per me, a me non farebbe piacere assolutamente un suo ritorno, ma io vi dico il mio parere, che è basta, c'è punto, stop. Però sotto il punto di vista tecnico, ritorniamo un attimino al discorso, non lo vedo questo anello mancante nella rosa, perché è vero che lui sottoporta è fortissimo, è molto forte nel colpo di testa, ha un attacco del primo palo come pochi sanno fare, verissimo, però è anche vero che nel gioco di Inzaghi gli attaccanti devono aiutare assolutamente la squadra. E lui ha una cosa che non è nelle sue corde, ci potrebbe lavorare ma non l'ha mai fatto, cioè ricordiamo quante volte Spalletti ha ripreso lo stesso Icardi proprio per questa questione, quante volte ma anche pubblicamente ha parlato di questo problema di Icardi, che se si abbassasse un attimino, diceva Spalletti, e riuscisse a capire che giocando con la squadra avrebbe più opportunità, farebbe più gol, gli darebbe tutto questo ragionamento, quel quid in più per diventare un attaccante invincibile, perché sottoporta è chiaramente un cecchino, ce ne faremmo poco per queste ragioni. E qua non c'entrano, lo ribadisco per l'ennesima volta, le questioni private, le questioni di gossip e quant'altro. La notizia di ieri, tornando a questa, secondo me è una notizia gossipana, nel senso che comunque è una notizia degna di riviste modello Evo Express di una volta, che non so se c'è ancora, o Novella 2000, riviste che io leggevo quando andavo dal parrucchiere, sono passati tanti anni, e quindi secondo me le possibilità che venga all'Inter sono veramente top. Diamo delle percentuali, il 2%, non arrivo al 5%, per una serie interminabili di motivi, sia tecnici, sia ambientali, ma sotto il punto di vista dello sfogliatoio, perché secondo me non varrebbe accolto benissimo, non per lo storico, ma per il fatto che sarebbe di difficile collocazione, perché comunque è un giocatore importante, è un giocatore che nell'Inter non penso che accetti così a cuor sereno di subentrare dalla panchina, e poi ha una personalità forte. Poi ho sentito anche cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra, di un colloquio tra Marotta e i senatori della squadra, per sentire il loro parere su Icardi. Allora, non ve lo devo dire io che è una grandissima cavolata, giusto? Ci arrivate da soli che è questa una grandissima cavolata, anche perché le cose che si dicono nello sfogliatoio rimangono nello sfogliatoio, quindi queste indiscrezioni non ce li ha neanche la moglie di uno di questi giocatori, per intenderci. Quindi immaginate voi se una persona normalissima che ha il canale YouTube possa sapere queste cose. Le dico perché secondo me andare a inventare fa danni, si fa danni inventarsi le notizie, inventarsi le indiscrezioni. Poi per l'amor di Dio, può anche capitare che uno di queste persone, uno in particolare magari riceve la telefonata da una sua conoscenza che è inserita nell'ambiente del calcio, piuttosto che conosce, per l'amor di Dio. Però su queste questioni di sfogliatoio strette non sono non ci credo, sono oggettivamente delle cavolate. Poi chiaramente a me la speculazione mi dà fastidio, quindi adesso prepariamoci a vedere live su live, su notizie di Buttada come al solito. Quindi volevo un attimino fare chiarezza con voi su questa cosa. I nomi che circolano per quanto riguarda l'attacco sono nomi, sono i nomi che sappiamo tutti. E secondo me un attaccante alla fine arriverà, perché la stessa società sa. Cioè voi pensate che Marotta e Ausilio non sappiano che noi davanti assolutamente abbiamo bisogno di qualcuno, perché abbiamo veramente la coperta corta e soprattutto Sanchez sta tradendo le attese. Ma chiaramente che lo sanno. Si fa nome di Taremi, ma Taremi per me può arrivare a giugno, anzi, c'è forte probabilità che arrivi a giugno, ma adesso per una serie di motivi penso che non arriverà proprio. Discorso estracomunitari che con Buchanan, che tra l'altro arriva domani, abbiamo lo slot pieno degli estracomunitari. C'è Sanchez che secondo me non andrà mai via a gennaio, nel senso che lui si giocherà tutte le sue carte per rimanere fino a fine stagione, quando finirà il suo contratto. Quindi togliamoci dalla testa. Poi arriva l'offerta sensazionale dalla rabbia, che secondo me gli è già arrivata. Secondo me sarà comunque per giugno. Arrivasse per gennaio e andasse via, io sarei contento, perché è un giocatore che a me non è mai piaciuto, soprattutto come atteggiamenti. Anche qua di Sanchez, sfatiamo il discorso che non va d'accordo con i compagni di squadra, perché io onestamente vedo un gruppo unito e anche se fosse nessuno di loro, farebbe trapperare la notizia. Quindi anche qua sfatiamo, perché queste invenzioni fanno veramente male alla nostra squadra. Gli altri nomi che si fanno, Marzial, Marzial comunque a me piacerebbe, però insomma stipendio importante, molto difficile da portare qua. E poi c'è il ragazzo albanese del 2001, che gioca nel Chelsea, gioca insomma pochissime apparizioni, come devo andarlo a vedere, ma aiutate voi, come si chiama questo ragazzo? Perché storpio sempre il nome, Brogia, Brogia, sto dicendo Borgia, Brogia del Chelsea, lui sarebbe comunque un profilo interessante, varrebbe in prestito. Onestamente per me non è lui il nome che sta seguendo la nostra dirigenza, però ecco, lui di questi nomi qua sarebbe il più facilmente prendibile. Ok? Queste sono comunque le notizie che circolano oggi, poi facciamo gli auguri a tutti voi di buon anno, scusate però dovevo dirlo all'inizio video, ma oggi sono in ferie, quindi ho il cervello che è molto rilassato, e essendo vecchio mi dimentico le cose. Adesso in questi giorni faremo un appuntamento quotidiano, poi ho delle novità importanti, perché io avevo sempre detto, torna a direzione di un'altra azzurra, però dicevo essenzialmente perché tantissimi di voi che vengono allo stadio e vengono a salutarmi, cosa che a me fa un piacere immenso, mi chiedono quasi tutti, per favore Sergio, riprendi a fare direzione nera azzurra, ma anche gente che non mi aspetterei mai che una persona del genere, tipo una mia amica che saluto la Laura, no ma dai ma riprendi, mi piaceva, che gente che YouTube non sa neanche cos'è, quindi riprenderà a direzione nera azzurra, riprenderà con uno staff importante, non tanto per i nomi altisonanti, perché tutte persone normalissime come me, però molto ma molto competenti, ci sarà un ragazzo giovane che voi già conoscete, che fa il giornalista ormai di professione, io sono contentissimo perché, insomma è da tanti anni che collabora insieme a me, è una persona che mi piace da matti, molto serio, molto professionale, ci sarà l'amico Giacomo di Interterapia, e vi ripeto andate a vedere questo canale, perché sono veramente bravi, e poi ci sarà l'amico Tony, che ormai è immancabile, perché solo a pronunciare il suo nome, mi viene da ridere, pensate che ci hanno anche appellato amanti a me, Tony, e ci abbiamo dato a male, mi piacciono le donne, anche se sono vecchio, erano più le chance di una volta, mi piacciono molto le donne, e poi ci sarà la mia amica Alessia, quindi un tocco di femminilità, ma interismo allo stato puro, quindi torneremo da martedì, e ogni martedì appuntamento fisso, per chi come voi ci segue ormai da tanti anni, ragazzi per oggi è tutto, ci aggiorniamo domani, dove farò un video un attimino più breve, e quindi ricordandovi che di Milano è simbolo regale, il biscione dell'internazionale, ragazzi ancora buon anno a tutti voi, e grazie per i commenti, da domani nei video che cercherò, almeno questa settimana, di farli veramente a livello quotidiano, ogni giorno, leggerò i vostri commenti, leggerò non tutti, però i commenti più interessanti, li leggerò, in maniera tale che interagiamo ancora di più, perché è la cosa che a me veramente fa più piacere, è quella di interagire con voi, ragazzi oggi non mi escono le parole, non so come vai, sono sobrio perché dicono anche che sono alcolizzato, e anche qui ci hanno visto male, però ho solo il cervello, stacco che ho bisogno di riposare, ciao ragazzi, forza Inter, e condividete il canale con gli interisti, quelli come noi, cioè quelli vecchio stampo, quelli con l'interna e il sangue nel cuore, ciao ragazzi!